E' ripresa gradualmente nella notte la raccolta dei rifiuti nei 19 comuni dell'Atogese Agrigento 2. I lavoratori hanno ripreso le attività dopo la pregettazione avviata ieri a Palermo dal commissario delegato per l'emergenza rifiuti Maurizio Norrito, che aveva convocato d'urgenza anche gli amministratori dei comuni interessati. Per scongiurare il licenziamento, quindi, i dipendenti del raggruppamento temporaneo delle imprese hanno accettato le condizioni imposte dal Dipartimento regionale che, in sostituzione di Gesa, non appena incassati circa 600.000 euro messi a disposizione dai sindaci, garantisce agli operai il pagamento dei residui degli stipendi spettanti fino ad agosto e la quattordicesima mensilità. La gestione emergenziale della Regione, in sostituzione del lato, dovrebbe scongiurare anche la chiusura della discarica di Siculiana, i cui titolari, la ditta Catanzano, aveva annunciato il blocco delle attività a partire da lunedì prossimo. Catanzaro, per servizi svolti nel mese di agosto e nella prima decada di settembre, vanta ancora da Gesa un credito di circa 750.000 euro. Con la rimozione dei rifiuti, si torna momentaneamente verso la normalità, anche se dal prossimo 3 dicembre, quando cioè il Dipartimento regionale per l'emergenza accederà nuovamente alla gestione, i problemi per lavoratori, imprese e cittadini potrebbero nuovamente sorgere. Intanto, ci vorranno dei giorni prima che la situazione torni alla normalità e l'auspicio resta quello che l'avvertenza non ci faccia trascorrere un Natale tra i rifiuti. Intanto, lo sciopero della raccolta aveva indotto alcuni sindaci ad adottare provvedimenti di sabbaguardia dell'igiene pubblica. Nella città capoluogo, infatti, il sindaco Marco Zambuto per oggi aveva ordinato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e, nei giorni scorsi, la sospensione dei tradizionali mercati cittadini. Provvedimenti adottati anche al comune di Favara, dove la presenza in strada dei rifiuti aveva provocato il rinvio della fiera.